Benvenuto a questa presentazione. Sono Gregorio Costa ed in Technobit mi occupo di certificazione energetica. In questo video introduttivo ti illustro le caratteristiche generali del software ThermoCE, mentre nei successivi video potrai scegliere gli argomenti che vorrai approfondire. Buona visione! Per le regioni Piemonte ed Emilia-Romagna vengono generati gli elaborati secondo normativa locale e gli attestati di certificazione energetica secondo i rispettivi modelli regionali, completi con il riepilogo dei dati da inserire nel sistema informativo SICE per il Piemonte e SACE per l'Emilia-Romagna. Così, se impostiamo il Comune del Lavoro su Bassano del Grappe in provincia di Vicenza e il riferimento normativo su Nazionale, otterremo la CE secondo il modello nazionale. Troviamo quindi inquadrata la classe dell'edificio, i cruscotti e la classificazione vera e propria. Se invece impostiamo il Comune di Aquiterme in provincia di Alessandria e il riferimento normativo relativo al Piemonte, otterremo la CE regionale con la prima parte, la seconda pagina e infine una pagina riepilogativa con tutti i dati da riportare nel sito della regione SICE. Se invece impostiamo il Comune di Bologna e il riferimento normativo Emilia-Romagna otterremo il relativo attestato di certificazione. Anche qui avremo quindi tutti i dati da riportare poi nel sito SACE. Infine, se impostiamo il Comune di Milano e il riferimento normativo Lombardia, potremo generare dal menu Strumenti con l'opzione Esporta a Cened+, il file XML da importare appunto nel programma Cened+, della regione. Con semplici passaggi si arriva alla generazione del file che può essere quindi poi importato nel programma. A corretto del programma vengono forniti gli archivi generali già compilati, dei materiali, delle strutture, i fori, i dati climatici di tutti i comuni italiani, l'abaco dell'archivio Ponti Termici già compilato e l'archivio Generatori di Calore. L'inserimento delle dispersioni può essere effettuato sia numericamente con metodo tabellare con l'attribuzione di superficie e volumi, sia graficamente tramite l'applicativo ThermoCAD operante su AutoCAD e ZVCAD, ed è sempre possibile integrare l'inserimento grafico con l'inserimento numerico da ThermoGE.